E quindi stiamo quasi giungendo la destinazione Manca circa un'oretta e mezza Tantissimo traffico, tanto, tanto traffico, incidenti Un'autostrada Beh, un'autostrada Tu non puoi aspettarti di meglio Comunque, vabbè, che facciamo qua? Che facciamo domani? Qua sembra che il sole sia uscito un po' Speriamo, speriamo perché ha dato pioggia per almeno due o tre giorni E non abbiamo visto neanche una goccia del sole Perfetto Se piove ci sarà da sacrificare le foto in esterno Ora direi che ci concentreremo più sulle sale E soprattutto sui piatti E' spettacolare sui piatti da quello che abbiamo già potuto vedere Quindi tanto di cappello, quelli che l'abbiamo già fatto prima Questo lavoro Noi, come sempre, tenderemo a fare qualcosa di differente Quindi Vedremo qualcosa ben preparato Comunque Vediamo Vediamo, vedrete Ho visto delle foto Della sala che hanno fatto In questo tempo, diciamo un po' così Un po' proprio toscano In questo tempo con queste nuvole cattive Su questi campi di grano Loro hanno una finestra Portafinestra Che affaccia tutta la trata Sul campo di grano Una cosa molto 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 Doppia esposizione Sì Io Andrei giù Anche io Di doppia esposizione Sì Sì, 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 assolutamente Faremo qualcosa del genere Anche perché Dato che Ci troviamo in Toscana Vuoi non far vedere il panorama fuori Ci manca Cioè Ristorante stellato Panorama Stellato Sì Possiamo dire che è così Anche stellato È un panorama di un certo livello Quindi Ci sta E io punto comunque sul discorso dei piatti I piatti sono Veramente Dobbiamo veramente Dare qualcosa di più Sì, sì, no Dobbiamo Dobbiamo Quello che c'è già Va bene Perfetto Abbiamo fatto i complimenti Come ha detto prima Luca Però Dobbiamo Differenziarci Uscire fuori Uscire fuori dagli schemi Stavolta Stavolta facciamo qualcosa di serie Ciao 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 ragazzi Ciao